quest'anno la notte degli oscar ci sarà nella notte fra domenica 27 marzo e lunedì 28 marzo se volete seguirla con noi di ciacche azione faremo una diretta a partire da mezzanotte quindi a partire da domenica sera a mezzanotte sul nostro canale youtube di ciacche azione sulla nostra pagina facebook di ciacche azione vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle recensioni che abbiamo fatto e sui video che postiamo sui film candidati e sulle nuove uscite di film e serie tv la notte degli oscar domenica 27 marzo a mezzanotte seguiremo il red carpet e lo commenteremo insieme anzi manderemo in diretta con il nostro commento anche le immagini direttamente dal red carpet al dolby theater di los angeles e commenteremo insieme insomma tradurremo per voi la cerimonia e ve la faremo vedere a schermo quindi l'appuntamento è per domenica 27 marzo a partire dalla mezzanotte io sono valerio con me ci saranno valerio perrone serenardi zoia tantissimi ospiti per divertirci e passare questa nottata insieme come facciamo tutti gli anni e capire chi vincerà i premi cinematografici più importanti dell'anno appuntamento a domenica su ciacche azione vi aspetto a domenica su ciacche azione vi aspetto a domenica su ciacche azione vi aspetto